Ecco le sette persone più ricche d'Italia nel 2022. Al settimo posto, Giuseppe De Longhi con 4,4 miliardi. Al sesto posto, Massimiliana Landini Aleotti con 5,4 miliardi. Al quinto, Silvio Berlusconi con 7,1 miliardi. Al quarto, Giorgio Armani con 7,8 miliardi. Al terzo posto, Stefano Pessina con 10,3 miliardi. Al secondo posto, Leonardo Del Vecchio con 27,3 miliardi. E per concludere al primo posto abbiamo Giovanni Ferrero con un patrimonio di 36,2 miliardi, che risulta essere in 36esima posizione tra i più ricchi al mondo. Cosa ne pensate?